Nel film Disney-Pixar, Red, io sono Ellen. Il film Disney-Pixar, incredibili sempre, a qualsiasi età tu li veda o li riveda, perché parlano di questioni che non invecchiano. Secondo me non investono tanto sulla modernità, cioè sul momento, ma su quei macro-argomenti che si evolvono, no? Ed è incredibile come quando vengono prodotti e diretti abbiano sempre un'apertura, per cui tu in qualsiasi momento li vedi riesci a cogliere il tuo momento dentro a quel film. Quindi è come se crescessero con te. Dunque, Mei Li nel film Red a me piace parecchio perché ha un atteggiamento alla propria evoluzione, cioè al proprio diventare grande e coraggioso. È proprio una caratteristica che nelle persone apprezzo tanto e credo di essere stata anch'io un'adolescente coraggiosa. Appena vedo un personaggio che mi ricorda quella forza, quella voglia di essere, di affermarmi, no? E di affermarsi per quello che si è, io subito mi ci riconosco. Per cui credo di essere stata come Mei Li un'adolescente, che a tratti poteva sembrare prepotente o comunque non così popolare, no? all'interno della società, nella società che doveva accogliermi. Però in realtà io volevo solo avere coraggio di essere quello che ero. Quindi è un viaggio interessante si è affrontato così. Certo, le problematiche possono essere moltissime e l'apparenza, o meno quello che passa di te agli altri, potrebbe non essere così piacevole. Però alla fine vince. Forse non mi dispiace la nuova me. Gli amici ti salvano, gli amici giusti ti salvano. Anche quelli un po' sbagliati, no? Quelli forse non proprio perfetti. Perché ti danno la misura di dove sei, di cosa devi cambiare. E ti danno la possibilità di poter dire no a qualcosa che probabilmente non è giusta per te, no? I genitori durante l'adolescenza, come appunto succede a Mei Li, hanno sempre un ruolo che deve essere scomodo. Perché sei quella che accende la crisi, no? Le crisi sono fondamentali. Quindi lo scontro sano, il dirsi le cose in faccia. Prendersi quei momenti in cui invece la mamma non è amica ma resta fuori e si ristabiliscono i ruoli, quindi le amiche, le regole. Mia mamma era sempre un po' imbarazzo, aveva sempre la sensazione di essere di troppo. E poi si fidava molto di me e della mia autonomia. Quindi mi metteva in condizioni di essere autonoma. C'era il giusto, ma io invece volevo che lei ci fosse di più. Quindi guardando questo film, per esempio Red, un po' la lacrimuccia, l'idea che mia madre potesse essere un pochino più invadente proprio. Cioè come atteggiamento, un po' di nostalgia. Cioè mi sarebbe piaciuto, ecco. Le boy band per me sono sempre state, voglio dire, al centro di grandi entusiasmi, grandi desideri, no? Il principio azzurro, bello, che canta, che si muove, che balla. In quegli anni era proprio, cioè, se non ci avevi una boy band di riferimento non eri nessuno. Per cui su tutti sicuramente i take that. Ho avuto la fortuna da adolescenza di incontrarli, perché già lavoravo. E mi ricordo che gli ho prestato una camicetta a uno di loro, perché aveva perso la valigia in aereo. E mi è sembrata la cosa più figa del mondo. Cioè non ci potevo proprio credere che lui era davanti a me. E ballava con una mia camicetta addosso. È una di quelle cose come quando a un concerto ti arriva una cosa dal palco e la prendi tu e non tutti gli altri, no? Io invece gliel'avevo consegnata a lui. È stato un momento indimenticabile per me. Io sono sicuramente molto, anni 90, per forza di cose. Comunque già lavoravo in quel periodo, perciò mi sembra difficile non pensarne un gran bene, no? Perché ho vissuto tutto da dentro, anche non solo da spettatrice, e non da ragazzina e basta. Quindi sono anni importanti in cui, insomma, ci formavamo tutti. Avevamo questa idea del pop che era una risorsa bella. Cioè arrivare a tutti, essere popolari, fare cose comprensibili. Negli anni 90 essere pop era una roba bellissima. Appunto era come fare un film del genere, no? Cioè arrivare a più strati a tutte le età. E negli anni 90, secondo me, c'era questa sensazione, no? Si respirava in televisione al cinema, nella musica. C'era questo modo di costruirsi un po', forse anche eccessivo, che però rispecchiava tanto come eravamo dentro in quegli anni. Sembrava così che tutti ci si fidasse un po' di più del futuro, ecco. I nostri antenati avevano un legame mistico col panda rosso. Ma se May Lee si trasforma in un gigantesco panda rosso, che al giorno d'oggi è perfetto, perché per essere, per affermare la propria identità, forse c'è bisogno di un gigantesco panda rosso. Per tutti i ragazzini che guardano i film, sono sicura che vorranno a un certo punto trasformarsi in un panda rosso. Per me c'era la sensazione inversa, cioè quella di cercare di diventare un pochino meno visibile, per cui credo in quegli anni mi sarei trasformata volentieri in un gattino piccolo. Perché in realtà forse io ero un panda rosso, urlante. Quindi l'idea di involvere in questo senso, secondo me mi avrebbe fatto comodo, ecco. Cioè io senza la trasformazione ero un panda rosso. Mi svegliavo già panda rosso.